galattici amici ma soprattutto galattiche amiche grazie a voi abbiamo raggiunto il superato i 400 iscritti per questo vogliamo premiarvi con un nostro nuovo giveaway come funziona questo giveaway alla fine di questa nostra presentazione vedrete un video un video muto con due soggetti due animali due bestie di dubbia provenienza dovrete scrivere i dialoghi dove li dovrete scrivere nei commenti sotto questo video i migliori commenti che riceveremo entro e non oltre il 30 di aprile verranno sorteggiati e valutati e tra questi ci sarà il vincitore del grasso premio misterioso quindi iscrivetevi al nostro canale attivate la campanellina e dateci dentro a presto a presto a presto quindi mi raccomando iscrivetevi al vostro al nostro canale il vostro direttore difficile quindi a presto ciao ci buttiamo c'è anche un errore come detto più trasporto vi proponiamo un nuovo giveaway scusate scusate 3 2 1 in queste condizioni non posso lavorare però eh sono abituato con i professionisti eh non ti pagliacci qui c'è quasi e le ore dieghe di Informationen riprendire la roba io non lo avento perchè ora non ci sono ate a tutti i torsieri ehi nomi nomi 3 2 1 con i professionisti io con i professionisti sei tu la parte portanza siete dei pagliacci ciao amico galattico dai quindi iscrivetevi al nostro canale tu cazzo di posto riprenda da qui riprenda da qui